Il caro che presentiamo quest'anno si chiama la Festa dei Folli. Nella Festa dei Folli si elegge Papa, Re dei Folli, il più matto, il più stravagante, il più pazzo. Nella Festa dei Folli del 2022 il nostro Quasimodo, il nostro Re dei Folli è Achille Lauro. Achille Lauro l'ho scelto perché ritengo che sia un personaggio trasversale, perché comunica con il linguaggio dei giovani, ma è conosciuto e apprezzato anche dai più anziani. È un personaggio trasgressivo, è un personaggio eclettico, che lo fa anche con un suo stile forte, pieno di citazioni, ma sempre con originalità ed eleganza. E credo che rappresenti il nostro pazzo, la nostra guida per i nostri giorni di follia. Abbiamo bisogno di sfogare la nostra follia interna, che teniamo chiusa ormai da troppo tempo, e abbiamo bisogno di un Papa che ci guidi e credo che lui sia il soggetto ideale.